Lorenzo Dell'Ai, allora dice Ferrero l'idea della recessione, la recessione però sono dati di fatto, sono numeri, ma Monti che appunto sta cercando bene o male, adesso questo non sono certo io qui a giudicarlo, intanto secondo lei sta lavorando bene? Guardi io penso che non si può giudicare il governo Monti se non si giudica la situazione della quale è nato, eravamo in una situazione drammatica dal punto di vista non solo economico e finanziario ma anche direi politico, è naufragato un intero ciclo della vita politica italiana, ci si è aggrappati a questa idea di un governo di larga intese guidato da Monti e a me pare di poter dire che il Presidente Monti sta facendo in questa fase ciò che è possibile fare, certamente nessuno pensa che per il futuro non serva anche la politica, magari poi ne parleremo. Parliamo subito perché una delle critiche più forti che vengono fatte a Mario Monti è il fatto che ci vogliono delle elezioni in cui chiunque voglia governare sia legittimato da un voto popolare, lei tra l'altro si è come un sostenitore di un cosiddetto Monti bis. Guardi io penso che dopo questo governo la politica e la tecnica non potranno più essere scisse, bisogna ricomporle, la politica che vuol dire il progetto, che vuol dire la speranza per il futuro, che vuol dire anche la motivazione delle persone, delle comunità, insieme anche il realismo dei conti, il realismo delle misure anche di rigore. Certamente a livello europeo siamo tutti molto preoccupati, ma quello che posso dire è che il Presidente Monti sta cercando, mi pare, a livello europeo proprio di unire la visione strettamente finanziaria dei conti pubblici con delle misure di crescita, di sviluppo. Facile a dirsi, ma naturalmente molto difficile poi. Ferrero è molto poco d'accordo con lei, Ferrero. Però non è che Ferrero che è poco d'accordo, lo vede anche un bambino che le politiche fatte dal governo Monti stanno aggravando la crisi e producendo disoccupazione, non sviluppo, ma per un motivo banale. Oggi la crisi è dovuta al fatto che c'è molta parte della popolazione che non arriva a fine del mese con lo stipendio e con la pensione. I provvedimenti di Monti hanno aggravato questa situazione, la gente ha sempre meno soldi in tasca. Parlo della metà del popolo, insomma. Allora, questi provvedimenti aggravano la situazione e non è vero che non si poteva fare altro. Ferrero, la posso interrompere solo un secondo? Siccome abbiamo visto poco fa nel telegiornale l'ultimo dei tanti sondaggi che vengono fatti in questi giorni, dal quale risulta che Monti è in assoluto il leader più popolare oggi in Italia, quindi sono un po' masochisti, autolesionisti gli italiani? No, gli italiani sono spaventati e sono in una condizione in cui si sentono ripetere a reti unificate che eravamo sull'orlo del disastro, che c'è una strada sola per uscirne e che se non facciamo quella strada ritorniamo sull'orlo del disastro. Questo è il refrain di tutti i giorni. Secondo lei eravamo sull'orlo del disastro o no? O tutto sommato andavamo bene come andavamo? No, 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 guardi, io quando il governo Berlusconi se n'è andato ho bevuto e brindato perché penso che fosse un disastro. No, no, ma a prescindere da Berlusconi, qui parliamo di un paese e della sua situazione economica. Sì, la situazione economica dell'Italia è la seconda potenza più industrializzata d'Europa ed è la settima potenza più industrializzata del mondo. Il problema che si è trovato davanti all'Italia, che è quello della speculazione, è dovuta unicamente al modo in cui funziona la Banca Centrale Europea, che in questi mesi ha trovato mille miliardi di euro per le banche mentre strozza gli stati a cui non dà i soldi. Questa è l'origine della speculazione, non c'entra niente. L'articolo 18, le pensioni e avanti, il problema è che siamo nell'unico posto nell'universo perché le altre nazioni del mondo non funzionano così negli Stati Uniti, nell'Inghilterra, né altre. Siamo l'unico posto nel mondo in cui chi stampa i soldi li presta alle banche private e non allo Stato. Questo è il problema. Non di farle stangate come sta facendo Monti. Presidente, lei è questo il problema? Con tutto il rispetto mi pare una ricostruzione un po' caricaturale della situazione. Io penso che quando un paese ha 2 mila miliardi di debito pubblico e sul suo bilancio ha più di 100 miliardi all'anno di oneri per questo debito deve porsi seriamente il tema del riordino finanziario. Lo dico essendo Presidente di un'autonomia che fa i conti con queste politiche di forte rigore finanziario. Ma questa è la premessa per poter avere un ruolo forte dell'ente pubblico anche per le politiche di sviluppo. Io penso poi che vengano a maturazione dei nodi che erano storici del nostro paese. La difficoltà a competere, la difficoltà poi anche a far funzionare alcuni comparti importanti della vita collettiva. Io credo che le politiche di emergenza sono sempre politiche che creano problemi. Il vero problema adesso è capire come andare avanti. Ma è vero, come dice Ferrero, che la Banca Centrale Europea ha prestato alle banche all'1% e le banche a loro volta non hanno elargito prestiti, fatto crediti alle piccole e medie imprese. E' abbastanza facile in questo momento, credo, attaccare le banche e anche io ho le mie riserve sulla politica delle banche. Però devo anche dire che se le banche non riescono ad avere una loro alimentazione finanziaria a sostegno delle imprese, la situazione diventa drammatica. Dunque non è vero che si pensi solo alle banche o non si pensi alle banche. Io penso che è tutto l'intero sistema finanziario, pubblico e privato che ha bisogno oggi di guardare al futuro con maggiore serietà e serenità. Ferrero. Però Dell'Ai, qua il problema non è che si pensa alle banche, così le banche prestano i soldi alle imprese. Qui siamo nella follia che si danno i soldi alle banche e quelli le usano per coprire i buchi che hanno fatto con la speculazione. Alle imprese non danno nemmeno un euro, così come i commercianti o gli artigiani sono strozzati dalle banche. Il problema, la cosa, la vera follia, è che qui stiamo usando i soldi delle tasse dei cittadini per salvare gli speculatori. L'ultima è quella delle banche spagnole. Dei, non so se saranno 50-60 miliardi di euro che verranno dati per coprire i buchi delle banche spagnole, il 19% lo mette il governo italiano. Cioè il governo italiano metterà 10-12 miliardi di euro presi dalle tasche dei cittadini, da chi paga le tasse e si userà per coprire i buchi degli speculatori. Questo che cos'è se non è un favore agli speculatori che si prendono i soldi dai pensionati, dalle casalinghe, dai lavoratori, dagli operai e si danno alle banche? Questa è la cosa che contesto. E questo è il problema. Mi pare che sia francamente una visione, ripeto, molto caricaturale. Io penso che i cittadini, i lavoratori, gli imprenditori hanno già abbastanza problemi in questa fase. Credo che la politica dovrebbe, anziché agitare spauracchi, indicare delle soluzioni. Non c'è alternativa ad una politica che unisca il rigore alle nuove prospettive di crescita. Io penso che su questo le proposte politiche devono confrontarsi. Non sull'agitare dei fantasmi. Già ce ne sono abbastanza in giro per l'Europa di fantasmi. Penso che bisogna fare discorsi molto seri e molto pacati. No, però mi scusi Dell'Ai. Insisto perché io stasera, prima di venire qui, ho fatto un dibattito con Giulio Tremonti e Stefano Fassina. Quindi diciamo due che di economia qualcosa ne capiscono e abbiamo presentato un mio libro sull'economia. Su questa tesi nessuno ha avuto da ridire. Perché? Perché è vero che tragicamente si sta facendo una politica di tagli sulla sanità, sulle pensioni, sui diritti dei lavoratori e nello stesso tempo si sdanno soldi pubblici alle banche. Io penso che questa sia una follia perché questo è un trasferimento di risorse dagli strati più deboli della popolazione verso la finanza. In effetti Dell'Ai, Hollande nella sua campagna elettorale, quando poi effettivamente è stato eletto presidente francese, ha detto che il nemico numero uno erano le banche. Dall'altra parte bisogna anche ricordare che se oggi vengono salvate le banche spagnole, vengono automaticamente sbagliate molte altre banche europee, italiane, tedesche, perché sono collegate tra loro. La mia storia, la mia estrazione, la mia filosofia stranamente mi porta ad apparire quello che difende le banche. Io sono solo un po' realista e dico che primo non si può costruire futuro sul debito che lasciamo le nuove generazioni. E questo è il motivo per il quale in tutta Europa c'è una fase difficilissima della finanza pubblica. In secondo luogo non possiamo vedere le banche come il nemico. Le banche credo che vadano inserite in una strategia di forte direzione da parte delle istituzioni, ma certamente noi dobbiamo chiamare raccolta tutte le energie della società, comprese le energie finanziarie. Senta Ferreiro, oggi Monti ha detto che il vero fronte politico non è più tra destra e sinistra, ma tra chi paga le tasse e chi no. Su questo punto probabilmente sarete d'accordo lei e il presidente Dell'Ai o no? No, io penso che sia giusto che la gente paghi le tasse e che va fatta la lotta all'evasione fiscale. Questo non vuol dire che non esiste più la destra e la sinistra. E in questo c'entra anche col debito pubblico. Dell'Ai dice abbiamo 2 mila miliardi di debito pubblico. Dovrebbe anche dire che abbiamo 8 mila 500 miliardi di risparmio privato e che più della metà di questi 8 mila 500 sono in mano del 10% più ricco delle famiglie italiane. A me è venuto un sospetto che in questi anni il 100 miliardi circa di evasione fiscale e tutti gli altri di elusione abbiano prodotto una cosa molto semplice, che in questo paese i ricchi sono diventati molto ricchi, troppo ricchi, e che si è fatto il debito pubblico. E che adesso il debito pubblico invece che farlo pagare a chi si è arricchito, con una patrimoniale, aumentando le tasse sui grandi stipendi e sulle grandi ricchezze, viene di nuovo fatto pagare a quelli che le tasse le hanno sempre pagate. Questo è il mio dissenso con Monti, che si va a sbattere sempre sugli stessi e non si risolve il problema della crisi e della disoccupazione. Però se riuscissimo invece a far pagare le tasse a chi non le paga, abbiamo un'evasione fiscale che vale oltre 100 miliardi di euro all'anno. Su questo punto non c'è il minimo dubbio che non c'è differenza, non deve esserci differenza fra le parti politiche, deve essere un grande obiettivo di civiltà, prima ancora che di politica economica. Io non so poi chi abbia prodotto in termini sociali il debito pubblico, se i ricchi o i poveri. Certamente quello che so è vero, come dice Ferrero, che le disuguaglianze sono cresciute in questo periodo storico, non solo in Italia ma in tutta Europa. E questo è un grande problema per la democrazia, per la politica economica, per la politica sociale. Non credo però che le vecchie ricette possano essere molto utili per superare questa diversità di andamento sociale. Forse bisogna inventare qualcosa di nuovo. Senta, Delai, aspetti un attimo, perché siccome vorrei passare al tema degli scandali che hanno investito in queste ultime settimane alcune regioni italiane a cominciare dal Lazio, intanto teme che in qualche modo possa essere coinvolta la provincia di Trento? No, francamente no. Abbiamo delle politiche abbastanza rigorose in questo senso. Certamente dobbiamo migliorare anche noi. Come regioni italiane abbiamo indicato al governo l'opportunità di fissare dei paletti, dei criteri, ai quali tutti abbiamo deciso di adeguarsi. Però francamente non in tutte le regioni italiane si usano i soldi pubblici per organizzare festini mascherati. Non è giusto così. Io do atto, mi ha fatto molto piacere il Capo dello Stato che ha giustamente invitato a condannare severamente le cose che accadono su questo piano, ma anche a distinguere le regioni e la realtà delle autonomie locali che non è una realtà di malaffare e di spreco. Quanto meno certamente non ovunque e non sempre. Ecco, non ovunque e non sempre. Allora Paolo Pagliaro prova a raccontarci laddove esistono luoghi e enti locali che amministrano con efficienza. Vediamo. Negli ultimi anni la parola più gettonata nel dibattito pubblico è stata federalismo. Pareva che quella parola avesse virtù taumaturgiche come le parole sorelle, autogoverno, responsabilità, decentramento, buona amministrazione, costi standard. Improvvisamente, sull'onda degli scandali che hanno investito il personale politico delle regioni, il federalismo ha perso tutto il suo fascino e nel volgere di poche settimane è diventato sinonimo di spreco e malaffare. È quella logica del pendolo un giorno tutto va bene, il giorno dopo tutto va male ben descritta dal sociologo Giuseppe Derita. Scompaiono così le differenze, si oscurano i meriti e le colpe, si afferma l'idea di un indistinto sistema dove il politico è per definizione incapace o corrotto. Ovviamente le cose non stanno così. Non ci sono studi comparati sul modo in cui due regioni a statuto speciale, come il Trentino e la Sicilia, utilizzano le risorse messe a loro disposizione dallo Stato e dai contribuenti. Poiché tra i compiti della politica dovrebbe esserci anche quello di creare le condizioni perché si possa investire e lavorare, diciamo che a Trento la spesa è ben orientata. In Trentino, dove la metà della popolazione è socia di una cooperativa, l'anno scorso gli enti pubblici su un totale di 5 miliardi di pagamenti ne hanno liquidati oltre 4 entro 10 giorni. L'IRAP più bassa d'Italia è stata abbassata ulteriormente. I contributi per le imprese avviate da giovani e donne sono stati portati fino al 50% dei costi di avviamento. La diffusione della banda larga è una priorità dell'amministrazione. E se gli investimenti pro capite in ricerca e sviluppo sono di 142 euro in Italia e di 200 in Europa, in Trentino hanno raggiunto i 261 euro. È a Trento l'unico nodo italiano dell'Istituto Europeo per l'Innovazione ed è qui che hanno deciso di insediarsi alcune grandi multinazionali. I costi della politica sono ovunque eccessivi anche nelle valli dolomitiche ma dobbiamo pur dire che c'è politica e politica. Presidente Dell'AI, lei quanto prende tra stipendio e benefit? Ma guardi, intanto benefit, non so cosa siano, noi abbiamo degli stipendi onicomprensivi, un consigliere regionale che in Trentino è anche consigliere provinciale perché il consiglio regionale è la somma di due consigli provinciali e ovviamente ha una unica indennità. Prende circa poco più di 5.000 euro al mese. Ovviamente i presidenti prendono dal 30 al 50% in più. Ma lei ha auto blu? Guardi in provincia, noi nella nostra provincia che è regione abbiamo un'auto di rappresentanza per il presidente e gli assessori usano quando serve un'auto che è a disposizione, credo che ne abbiamo due o tre. Ferrero, lei fino a quattro anni fa quando era ministro e anche deputato del Parlamento quanto prendeva? Io il deputato l'ho fatto un mese perché sono stato eletto nel 2006 dopo che sono stato nominato ministro ho dato le dimissioni da parlamentare quindi non lo so e ho fatto il ministro due anni questa è tutta la mia carriera istituzionale nella vita 50 anni credo che fosse attorno agli 8.000 euro perché il ministro che non è deputato prende di meno di un deputato e uno stipendio onnicomprensivo che non ha vitalizi l'ho preciso perché io non ho nessun vitalizio derivante dai due anni in cui ho fatto il ministro per il resto oggi io guadagno quasi 3.000 euro al mese 800 con un part time al gruppo regionale della federazione della sinistra del Piemonte e circa 2.000 da rifondazione comunista Senta, lei ha nella provincia di Trento nella sua provincia una disoccupazione mi diceva prima di circa del 5% Sì, un po' di più siamo al 5-8 mi pare quindi rispetto si candiderà le prossime viramentate questo non lo so però io penso una cosa che la politica italiana soffre molto di una ristrettezza della cerchia dei propri protagonisti c'è in giro per il paese nelle tante realtà del paese non solo purtroppo le cose brutte che si vedono in questi giorni in alcune realtà regionali ma ci sono tante persone che fanno politica quindi lei sarebbe disponibile io penso che se posso dare una mano in questo senso insieme a tanti amici lo farò grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti